Ciao, sto sperando tantissimo che questa volta stia andando. Mi sapete dire se si vede ancora male, si sente ancora male o se si è risolto? Ok, Ale dice ti sento e ti vedo. Ok, per fortuna. Perfetto, scusatemi, cioè alla fine ho ritardato 10 minuti ma vi giuro che non capisco il perché. Cioè sono attaccata alla stessa rete di prima, con la stessa webcam di prima, con la stessa applicazione di prima, però adesso gli va bene, prima no. Scusate. Ok, per fortuna, scusatemi un sacco l'attesa, mi dispiace sinceramente avervi tenuti così ad aspettare, a raggiare il moccolo. Vabbè, comunque cerco di mantenermi breve per recuperare questo tempo perso. Allora, intanto vi saluto, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Spero che stiate bene, che vi stiate preparando per chi festeggia la Pasqua, che vi state preparando serenamente. Oggi, come ben sapete, parleremo insieme del primo saggio accademico, che in realtà è una traduzione, però, cioè c'è una parte di saggio e una parte consistente di traduzione. All'interno di questo nostro book club, dedicato interamente a Anci Fumiko. Non so chi di voi poi è riuscito a leggere questo saggio, che, vabbè, era un po' complicato forse accederci, perché stava su J-Store. Ok, perché stava su J-Store e bisogna registrarsi per poter leggere alcuni paper, alcuni no, si possono pure leggere senza registrarsi. Però in questo caso serviva la registrazione, quindi magari non tutti e tutte sono stati in grado di leggerlo, ma non vi preoccupate, ve lo riassumo un po' io. Perché ho voluto dedicare una parte del book club a questo tipo di saggi, questi contenuti extra, senza stare solo sul libro? Allora, innanzitutto perché, secondo me, parlare... cioè, non riempivamo un'ora se spezzavamo ogni libro in quattro. E in secondo luogo perché, secondo me, era proprio bello affrontare questa autrice un po' più a tutto tondo. Leggere anche alcuni pareri di studiosi, esperti, ricercatori e usarli magari per integrare un po' quelle che sono le idee che ci facciamo via via e che leggiamo. In questo caso ho voluto proprio aprire il book club leggendo queste due traduzioni. La prossima è per sabato prossimo. Queste due... ok, ci sono mille errori, vai via. Mi sono saltata fuori dalle finestre, tipo... boh, non si sa. Ho voluto iniziare proprio con queste traduzioni perché volevo che ci fosse una panoramica un po' più ampia su questa autrice perché Namamico è vero che in ordine logico e anche cronologico era il romanzo giusto con cui iniziare, secondo me, questo ciclo di lettura. Però all'inizio non è in realtà una panoramica esaustiva, secondo me, di quella che è un po' l'opera di Enchi. Quindi volevo darvi anche un po' dei punti di vista diversi e spero di esserci riuscita. Allora, intanto chi ha letto il brano che c'era per oggi, sono un po' curiosa anche di sapere che cosa ne avete pensato. Quindi scrivetemelo nei commenti, dopo lo commentiamo insieme. Allora, il brano che c'era per oggi è questo breve racconto intitolato L'Orecchino che è appunto stato tradotto da Irene Sarasce che ha anche messo un brano di commento all'inizio che dà in realtà un sacco di spunti anche di riflessione che è un po' quello che voglio portarvi oggi in questa live. Allora, nell'Orecchino il punto focale della narrazione è, diciamo, l'erodismo. È un po' il macro tema che muove un po' tutto quello che è questo racconto. La protagonista è Takiko, che è questa donna che in realtà ha moltissimi punti di contatto con Enchi Autriche perché proprio come Enchi ha subito un'isterectomia, quindi una rimozione chirurgica dell'utero e in più sta invecchiando. Quindi abbiamo questo tema ricorrente della malattia, questo tema ricorrente della perdita degli organi sessuali femminili e quindi di conseguenza l'apparente perdita di femminilità, questa messa in discussione di cos'è una donna, cosa rende donna una donna e anche questa apparente perdita di sessualità. Non solo di sensualità, perché è un po' tutto avviluppato insieme, ma anche proprio di sessualità, perché in questo racconto il buco, tra virgolette, che rimane dopo quest'operazione viene chiamato la bocca della morte. Cioè questo spazio all'interno del corpo femminile che dovrebbe ospitare la vita nel momento in cui viene rimosso viene chiamato la bocca della morte. E che cosa succede? Appunto la protagonista di questo romanzo inizialmente soffre molto per questa perdita di femminilità, c'è anche un po' tutta la... adesso poi scenderemo nel dettaglio di quello che succede. Però lei inizialmente ha intanto una paura folle di questa malattia che la attanaglia e che appunto la costringe a subire questa operazione e questa, diciamo, fobia della malattia, in cui lei inizialmente è proprio terrorizzata all'idea che questo male ritorni. Dopodiché c'è proprio una sorta di, appunto, rassegnazione, che però non è una rassegnazione pacifica, non è una rassegnazione, diciamo, fatta senza lottare, di aver perso, appunto, ciò che la rendeva una donna, ciò che la caratterizzava in quanto donna. E verso la fine del racconto in realtà però scopriamo che proprio nel momento in cui Tachiko, la protagonista, perde questo tratto fisico, in realtà lei riscopre il suo erotismo, scopre di non essere in realtà assolutamente stata privata del suo istinto sessuale, erotico, della sua malizia. E' una malizia che lei esplora, ma che esplorando finisce con lo spaventarla, perché lei si convince, si rende conto di avere qualcosa di oscuro dentro e si convince di aver ucciso un uomo. Quindi, ritirando un po' le fila delle tematiche anche ricorrenti di Enci, che troviamo in questo racconto, c'è la mutilazione appunto del corpo femminile, dei genitali femminili, questa idea di erotismo e di femminilità che non è assolutamente vincolata però in realtà a questi organi. Quindi, una femminilità che forse è più intrinseca, ma che nel momento in cui non può più essere controllata dal patriarcato, perché nel momento in cui il corpo di Tachiko smette di essere appunto a servizio dell'uomo, non è più capace di soddisfarlo e non è più capace di mettere al mondo dei figli, in quel momento si libera, fra virgolette, però smette di essere un'entità benigna e materna, diventa qualcosa di estremamente distruttivo. E poi si ha appunto, c'è la tematica dell'ichirio, della possessione, comunque del supernaturale e alla fine c'è un accenno di una tematica che in realtà non fa molto parte dell'opera di Enci e che per questo in realtà io ho trovato interessante all'interno di questo racconto, che è la riscoperta di un istinto materno, quindi Tachiko, alla fine si sente madre, si sente inavvertitamente e del tutto inaspettatamente appunto materna, nonostante lei non sia chiaramente più in grado di dare alla luce dei figli. Quindi spero di aver introdotto più o meno bene le tematiche di questo racconto. Quindi niente, adesso faccio il riassuntino come facevamo per il Genji e direi che poi alla fine possiamo anche trovarci un piccolo spazio di domande e risposte e anche di scambio di opinioni, ok? Perché sono in realtà molto curiosa di sentire la vostra opinione. Allora, la protagonista dell'orecchino è appunto questa donna di nome Tachiko che gestisce insieme al marito Taiji un negozio, un negozio che in realtà va molto bene proprio grazie a Tachiko, grazie al suo spirito imprenditoriale che all'interno del racconto si rimarca sul fatto che, siamo comunque nell'immediato dopo guerra, si rimarca sul fatto che il fatto stesso che lei abbia preso in mano le redini del business sia qualcosa che in realtà non è per niente femminile. Per lo meno per quella che era la concezione dell'epoca, forse una businesswoman, un'imprenditrice così lungimirante e talentuosa è già di per sé una donna a metà. Il fatto sta che, grazie alla sua intuizione, alla fine della guerra, il vecchio business di famiglia viene riconvertito in questo negozio di accessori e abiti femminili che riscuote subito un grande successo e che grazie a questo riesce in un certo senso da tutire il colpo di quella che è appunto anche la crisi che c'è nell'immediato dopo guerra. Diciamo che per questo motivo, perché Tachiko è così indispensabile a questo business alla fine il marito, fra virgolette, ha sempre accettato di tenerla accanto a sé nonostante siano tantissimi anni che lui ha delle relazioni extraconiugali. Senza nasconderlo, fra l'altro, perché Tachiko sa benissimo che quando vengono i clienti lui li porta nei bordelli e nei cabaret, sa benissimo che ha avuto una relazione con un ex cliente da cui ha avuto una figlia e sospetta che in quel momento abbia anche una relazione con la giovane governante della casa. Quindi diciamo che non è assolutamente un matrimonio felice e sereno. In più, da quando Tachiko si è ammalata e ha subito questa isterectomia raga, non riuscirò mai a dirlo, da qui alla fine del book club ma quando lei ha subito quest'operazione di rimozione dell'utero loro non hanno più avuto una intimità coniugale in parte perché Tachiko stessa rinuncia del tutto alla sua sessualità non si sente più né uomo né donna, si sente una roba a metà con un grosso buco dentro che non si riesce a riempire con niente con questa bocca della morte e succede una cosa un po' strana perché il loro amore si era già spento il loro rapporto era sempre stato diciamo piuttosto freddo e dopo questa operazione in realtà Tachiko sembra essere ingiovanita sembra essere più bella di prima, più seducente di prima e è proprio il marito il primo a notare il fatto che questo paradosso, il fatto che lei sia meno donna però al tempo stesso molto più femminile di prima e c'è un momento in cui sembra quasi che ci sia un riavvicinamento in questa coppia però il marito è completamente terrorizzato da questo vuoto che c'è dentro la moglie non riesce neanche a toccare la vorrebbe toccare ma non ci riesce perché gli fa in qualche modo effetto ha detto Tachiko stessa che poi gli dice guarda non mi toccare mai più perché io non ti posso dare niente il mio corpo ormai è una roba mutilata che non serve più a nulla quindi questo diciamo è il tipo di relazione che intrattiene la protagonista di questo racconto che cosa succede però? che appunto mandando avanti il business Tachiko incontra questo artista ciao Gekko mentre fai i tortellini bravo dicevo Tachiko conosce questo artista designer un po' pazzo un po' così playboy di nome Takanashi che si infatua di lei niente di serio è solo un gioco però effettivamente anche lui la trova estremamente sensuale e ci prova anche in modo molto esplicito cioè insomma le dice delle cose la prova a toccare e sono avanti che Tachiko rifiuta però al tempo stesso risvegliano in lei qualcosa che pensava di non avere più risvegliano in lei questo senso di malizia di scivetteria questa aspirazione verso la sessualità che pensava di aver completamente perduto insieme al suo utero e quindi con questo risveglio Tachiko inizia un po' a esplorare questa sua sensualità ritrovata e non c'è una grande descrizione di quello che è questo periodo licenzioso però viene descritto in particolare un episodio non un episodio viene descritto in particolare una relazione che è del tutto platonica che avviene fra Tachiko e un artigiano un decoratore bravissimo molto talentuoso di nome Giro questo Giro le viene presentato fra l'altro dallo stesso Takanashi perché è un decoratore tradizionale bravissimo che fa dei lavori di altissima qualità a dei prezzi non eccessivi e effettivamente inizia una collaborazione che sembra andare a gonfie vele cioè quello che crea questo artigiano viene molto apprezzato vende molto bene e quindi inizia ad esserci uno scambio abbastanza frequente tra l'altro questo è un tipo molto taciturno che non ha molte relazioni sociali ha perso la moglie e i figli durante la guerra quindi se ne sta tutto il giorno piegato sul suo sgabello a lavorare è proprio il contrario di Takanashi non è un playboy però neanche lui sembra essere indifferente al fascino di Takiko tant'è che un giorno anche in modo un po' goffo ha impacciato le regala degli orecchini che ha fatto su misura per lei e a quel punto Takiko che in questa fase di riesplorazione di riscoperta della sua sensualità tende l'orecchio in modo molto provocatorio molto malizioso e si fa infilare l'orecchino al lobo direttamente da questo artigiano che è una roba che già di per sé è un po' fricciccariella però pensate a maggior ragione in Giappone dove la gente non si tocca cioè non si toccano manco a momenti in famiglia pensate a un totale quasi un totale sconosciuto a cui avvicini il volto il collo gli fai vedere il collo e ti fai toccare l'orecchio cioè è una roba proprio da andare via di cervello infatti questo tipo questo poverino va veramente via di cervello cioè lui inizia ad essere proprio tormentato da questa sensualità sconvolgente di Takiko e ogni volta che si rincontrano è quasi una lotta cioè nel senso alla fine non si toccano mai lui non cerca mai di metterle le mani addosso non c'è mai niente di esplicito niente di niente però è proprio un gioco di provocazioni di fare finta di non accogliere le provocazioni sudori freddi oddio madonna questa qui adesso cosa gli faccio che va avanti fino a che Giro non muore muore direttamente proprio sul suo banco di lavoro con ancora le cose in mano per via di una fuga di gas che lo soffoca e quindi apparentemente è stato un incidente però Takiko in quel momento si convince di essere stata in realtà lei in qualche modo di averlo spinto a suicidarsi o che in un certo senso sia stato proprio il suo modo di sfinirlo con tutte queste provocazioni ad averlo spinto sul limite di non ritorno e quindi lei si fa paura cioè pensa di sé di essere proprio una strega lei usa la parola strega si spaventa moltissimo perché quello che lei pensava fosse un po' un ritorno alla sua vitalità alla sua sensualità in realtà si rivela almeno ai suoi occhi un qualcosa di distruttivo che decide appunto di rinnegare completamente la narrazione parla quasi di una sorta di vendetta cioè Takiko si vendica di qualcosa di qualcosa che le è successo sul povero Giro e adesso poi questo tema della vendetta io vorrei un attimo affrontarlo anche con voi perché cioè di cosa si è vendicata Takiko questa è una domanda che è inevitabile farsi e che nel testo non è spiegata esplicitamente qual è la vendetta di Takiko e cosa ha fatto Giro di male Giro non ha fatto niente Giro è in questo caso la vittima sacrificale ignara totalmente ignara di questa vendetta apparentemente insensata e alla fine vediamo chi è Takiko sono già passati cinque anni dalla morte di Giro e Takiko diciamo come come scusa tra virgolette di averlo portato alla morte si prende cura della sua tomba quindi si si vede che lei prima si recca a pregare al Sensoji a Saksa per Capodanno e poi va al cimitero di Yanaka dove si dove mette dei fiori freschi sulla tomba di Giro però questa diciamo che è una sorta di ricompensa di scusa che ormai non ha senso è arrivata troppo in ritardo perché che lei l'abbia ucciso o meno comunque l'ha effettivamente in un certo senso tormentato e adesso lui è un po' morto e quindi non si può più fare niente io ho i miei bigliettini con cui controllo le cose e poi appunto c'è questa chiusura un po' emblematica un po' non troppo da Enchi che a me è piaciuta molto in cui Takiko vede questa bambina al cimitero che scappa con dei fiori e si rende conto che ha rubato i fiori che lei ha appena messo sulle tombe probabilmente per rivenderli perché nel dopoguerra c'era una miseria sconfinata e molti bambini orfani facevano qualsiasi cosa pur di sbarcare il lunario quindi Takiko non si arrabbia neanche del fatto che questa bambina abbia rubato i fiori per rivenderli anzi chiude gli occhi e si ritrova a immaginare una collanina cioè lei stessa pensa a una collanina che le piacerebbe molto realizzare per questa bambina quindi alla fine c'è una sorta di ribaltamento della situazione c'è questa donna che non può più avere figli che però arriva a provare un sentimento quasi materno nei confronti di una bambina sconosciuta questo è più o meno quello che succede nella storia spero di averla riassunta senza annoiarvi troppo scusate se l'ho fatto in caso e niente mi piacerebbe sapere molto che cosa che cosa ne pensate voi cioè allora la prima domanda che mi sorge sorce che mi sorge spontanea intanto se vi è piaciuto questo racconto nel caso l'abbiate letto che cosa vi ha colpito e esatto questa domanda cioè qual è la vendetta di Takiko cioè lei per cosa si sta vendicando quando tormenta il povero Giro non lo so se vi va di condividere un po' i vostri pensieri oppure se vi va di dirmi se appunto questo racconto vi ha dato delle prospettive un po' nuove mentre voi scrivete io vi voglio dire due considerazioni che ho fatto la prima è che questo questo aspetto della mancanza dell'utero dell'impossibilità di avere figli ma del provare al tempo stesso un fortissimo istinto materno a me ha ricordato moltissimo Murasaki no We nel Genji cioè proprio me la sono rivista davanti e appunto come dicevamo non è non è del tutto impossibile che Anci si sia ispirata a lei perché Anci era una grandissima gengista lei amava molto il Genji l'aveva tradotto e quindi vedere questa donna che non può avere figli ma che nonostante ciò ha questo istinto per la maternità ha questo istinto per il prendersi cura di bambini che non sono suoi a partire dal fatto anche che il marito di appunto il marito suo ha avuto una figlia con una con una dipendente a me è ricordato molto il fatto che Genji era Akashi mentre appunto Murasaki era dispersa cioè non dispersa era lontana quindi ho ritrovato questa analogia fra Genji Akashi la figlia e la figlia di Akashi e il marito Taiji e questa commessa che ha una figlia e anche il fatto che Takiko a volte cerchi di capire delle informazioni su questa bambina l'ho trovato in realtà molto simile a quello che succede nel Genji e poi alla fine appunto questo istinto materno verso una bambina sconosciuta l'ho trovato molto molto tipico di Murasaki no e poi mi ero segnata anche un'altra cosa il fatto che questa sorta di potere soprannaturale dove lei pensa di aver causato la morte di un uomo e non ne è sicuro e non l'ha fatto neanche intenzionalmente e si spaventa a me ha ricordato molto la scena dell'ikirio di Rokujo cioè di quando Rokujo si rende conto casca totalmente dal pero si rende conto che effettivamente il suo ikirio ha causato la morte di Aoi e inizia a farsi paura da sola e si tormenta tantissimo io un po' ce l'ho rivista vagamente anche in questo racconto allora sono arrivati due commenti nel frattempo Graziella dice non ho letto il racconto ma ti ho ascoltata una storia contorta che apre molte riflessioni diverse tra loro prima cosa non ho capito la vendetta adesso aspetta mi stanno scivolandovi i commenti ecco qua dare la relazione del marito di fronte ad una moglie privata della sua femminilità per me è stato un pugno nello stomaco la sua vendetta l'ho intesa un po' come vendetta nei confronti del marito facendo valere la sua femminilità con un altro uomo la similitudine con Murasaki l'ho percepita anch'io sono contenta che non sono stata l'unica a percepirla e per dare la vendetta è una vendetta nei confronti del marito che effettivamente ci può stare c'è un marito che l'ha fatta sentire indesiderabile l'ha fatta sentire disgustosa può essere che l'ha fatta sentire invisibile Livia premetto che non ho letto quindi sono considerazioni un po' così la riscoperta della sua sensualità solo quando non ha più la possibilità di fare figli mi sembra un anticipo sul tema femminista per eccellenza la donna non serve solo a fare figli come in età fascista si pensava ma ha una sua personalità sui desideri sui sentimenti al di là dei figli assolutamente questo è effettivamente un grande tema di Enci e anche di quella che è stato un po' tutto come dici tu il tema femminista per eccellenza quindi il non avere il non poter fare figli non ti rende meno donna e questo Enci lo dice praticamente in tutte le cose che scrive anzi in lei succede questa cosa cioè più le protagoniste dei suoi racconti e dei suoi romanzi si allontanano da questa prospettiva di poter mettere al mondo dei figli quindi del poter fare da incubatori poter dare la vita e assolvere a questo compito di madri quindi più si allontanano da quello che è che il patriarcato si aspetta da loro scusate se uso questa parolona però insomma avete capito cioè più si allontanano da questa idea di femminilità che viene sfruttata però e che le rende anche succubite di un sistema che le controlla e più si liberano più diventano sempre più donne perché diventano sempre più libere perché iniziano ad avere pieno controllo su se stesse già non significa che non vogliano avere figli o che tutte non abbiano avuto figli non è questo il fatto il fatto è che c'è proprio un allentamento del controllo maschile su di loro e più questo controllo si allenta più effettivamente loro sono liberi di esplorare altri lati del loro carattere della loro personalità anche lati un po' più oscuri come in questo caso come nel caso vedremo tra due settimane della seconda parte di Namamico ok Mars le premesse ricordano gli insetti preferiscono le ortiche di Tanizaki in Tanizaki allora forse è un po' però specchiato perché in Tanizaki la donna è una bambola soprattutto negli insetti preferiscono le ortiche c'è costantemente questo paragone fra la bambola del Bunraku quindi questa marionetta bellissima sublimata che però è una marionetta non è reale e questa donna giovane sensuale che è anche appunto l'amante del padre della moglie da cui però il protagonista si sta divorziando perché lei non lo vuole più Livia dice ma mi sembra che sia una cosa che rimane troppo fine a se stessa cioè lei alla fine non lascia il marito giusto allora non so cosa ti stai riallacciando Livia comunque lei non lascia il marito alla fine ma neanche il marito lascia lei loro ormai sono tra virgolette soci in affari quindi si incontrano il meno possibile durante la loro vita sia privata sia lavorativa però sono soci in affari quindi non hanno mai interrotto questo rapporto Mariko Murasaki non so se ho interpretato male ma ho letto il suo giocare con Giro come una rivincita della serie posso fare interessare un uomo anche se non l'utero sì è possibile cioè è possibile che sia proprio una rivincita nei confronti di tutto quello che lei era stato in un certo senso inculcato in testa cioè del suo valore di donna è vero che lei si sente nel momento in cui Takanashi le fa quelle avance lei dice proprio che si sente rivalidata come donna cioè scopre di avere un valore come donna però forse la cosa brutta è che questo valore non lo trova lei stessa è sempre qualcosa che passa dagli occhi di un uomo Graziella dice penso che il gioco che apre con i corteggiatori sia un modo per ritrovare la sua femminilità è vero cioè è anche possibile che forse all'inizio lei si sia sentita rivalidata da uno sguardo maschile ma che poi in scena in questa sorta di danza questa sorta di gioco spinta però da un suo volere cioè non è più qualcosa di passivo che chiede il bollino approvato o non approvato ma è proprio lei che cerca in qualche modo di fare la sua parte attivamente in questo gioco Livia ma cosa le serve essere libera se alla fine non lo è davvero? Scusa mi sa che sono domande a cui forse potrò rispondere da sola quando leggerò il racconto invece no Livia cioè quello è il punto è quello il punto tu hai toccato un punto giustissimo che è che torna in tutta l'opera di Enci cioè queste vendette sono sempre fini a se stesse non portano mai da nessuna parte non c'è mai una vera rivincita e non c'è mai una vera emancipazione c'è c'è un movimento verso quella che può essere un'emancipazione ma poi non ci si arriva mai c'è sempre qualcosa che riporta giù e queste vendette sono sempre vendette che lasciano l'amare in bocca perché come tutte le vendette in realtà le vendette non ti riportano indietro niente è semplicemente un infliggere dolore a qualcuno che ti ha inflitto del dolore ma non non ne guadagni assolutamente nulla ok avortisce la sua stessa emancipazione sì e questa è una cosa che tornerà uno dei motivi per cui ho detto no questo racconto lo dobbiamo leggere è perché poi ritorna in tutti i libri che leggeremo in questo book club molto triste è bello però soprattutto lo stile sono sicura che sono contenta che ti sia piaciuto come vedete in realtà è uno stile molto diverso da Namamiko perché Namamiko è un po' strano all'interno di tutta la produzione di Enchi è particolare comunque come narrazione mentre questo racconto è molto più simile a quello che Enchi scrive di solito secondo voi ecco questa è un'altra domanda che secondo me è interessante perché Takiko pensa che la morte di Giro sia stata causata da lei cioè che cosa glielo fa pensare quando è qualcosa che viene bollato chiaramente come suicidio scusate chiaramente come un incidente perché lei si convince al punto di in un certo senso proprio abortire la sua femminilità di nuovo e la sua emancipazione perché pensa che sia colpa sua allora Rosanna io ho pensato a Rocco Joe e il racconto fa capire le tematiche dell'autrice ok quindi tu Rosanna ci hai rivisto molto di più la vicenda di Rocco Joe e hai trovato che questo racconto fosse fosse un buon trampolino sulle tematiche dell'autrice sono contenta perché l'ho scelta opposta Livia risponde alla domanda sul perché Takiko si sente in colpa forse perché si sente moralmente responsabile a volte poco importa se non si agisce materialmente perché non potendo mai perché non potendola mai avere lei pensa che lui si sia suicidato ok quindi allora per Livia lei si sente colpevole perché sa di averlo in un certo senso tormentato perché lei è quello che ha fatto mentre Daria dice che lei si è convinta che lui si sia suicidato per non poterlo avere vuole darsi delle colpe perché si sente in colpa di aver giocato con lui è possibile è assolutamente possibile è possibile che lei si sia scattato un meccanismo involontario però in un qualche senso inculcato da qualche parte dentro di lei che le fa pensare che nel momento in cui si è permessa lei donna di prendere il controllo di dettare le regole del gioco di aver fatto quindi qualcosa tra virgolette di proibito nel momento in cui è successo qualcosa di sbagliato lei si autoconvince che sia stata colpa sua perché ha trasgredito qualcosa e quindi per forza ci deve essere una punizione Mars magari pensa di avergli fatto perdere il senno quindi l'idea del suicidio Graziella dice che questo racconto potrebbe essere tema di un trattato di psicologia ma ben venga io chiaramente non ne so niente non ne so assolutamente niente però ben venga io sono convinta che ci sia tantissimo da esplorare non lo so se avete altre idee altre cose che vi sono piaciute come con i zanami e i zanaghi scusa Mars questa cosa mi interessa puoi spiegare perché hai trovato questa analogia con i zanami e i zanaghi penso che possa essere uno spunto interessante però lo devi un pochino più spiegare sto guardando se mi sono persa qualcosa no mi sa che ho detto tutto quello che mi ero segnata io quindi adesso aspettiamo la risposta di Mars se qualcun altro o qualcun'altra vuole aggiungere qualcosa veramente ogni opinione è assolutamente ben accetta questo è proprio uno spazio che ho pensato per appunto scambiarci delle opinioni allora Mars dice che i zanami aveva fatto il primo passo con i zanaghi cioè nella leggenda che appunto narra di questi due dei che si sono uniti hanno creato varie divinità e le isole del Giappone si narra che all'inizio la dea i zanami fosse stata la prima a fare le avance a i zanaghi e che per colpa di questa cosa fosse nato un figlio amorfo e gli dei del cielo gli avevano detto che doveva essere l'uomo a fare il primo passo se volevano avere dei figli sani quindi ok inizio a vedere qual è l'analogia che vedi il fatto che lei si sia permessa come i zanami di fare il primo passo in qualche modo porta con sé una sorta di colpa allora Daria scrive tra l'altro in questi giorni ho letto Sonno Profondo di Banana Yoshimoto e mi sembra di aver trovato una corrispondenza a specchio la protagonista di Sonno Profondo diventa l'amante di un uomo la cui moglie è in stato di coma perenne Daria ti va di spiegarci perché le trovi una corrispondenza a specchio allora Graziella sì la morte di giro è sicuramente per il gas perché mentre lui sta lavorando si addormenta e dalla stufa che lui usa per cuocere la colla che gli serve per lavorare la stufa si ottura e c'è una fuoriuscita di gas per cui lui si avvelena col monossido di carbonio con ancora gli arnesi da lavoro in mano quindi in realtà è una sorta di dolce morte però estremamente teatrale come tante cose di Enchi perché lei amava moltissimo il teatro quindi è proprio scenografica come cosa comunque mi riallaccio al tema di Izanami e Izanagi perché questa è una cosa a cui io penso spessissimo alla fine della leggenda della creazione del Giappone la dea Izanami muore dando la luce al dio del fuoco questa so che è una storia che tanti di voi già sanno però la ripeto per chi non la sa Izanami mentre partorisce il dio del fuoco muore e Izanagi che è il marito la va a cercare nell'oltretomba un po' come il mito di Orfeo e Euridice solo che quando appunto la ritrova nell'oltretomba si rende conto che questa moglie ormai è un cadavere in decomposizione cioè brutta con i dermi che riescono e quindi lui appunto scappa da lei lei lo rincorre a un certo punto lui riesce a mettere a tappare appunto l'entrata verso il mondo dei morti con un grosso masso in modo che lei non lo possa più tormentare e si maledicono a vicenda però è interessantissimo notare cioè questa è una cosa che mi fa sempre andare fuori di cervello è interessantissimo notare come Izanagi chi ha dato alla luce l'intero Giappone più una valanga di divinità quindi lei è la dea della fertilità la dea della vita per eccellenza diventi alla fine la dea della morte e quindi secondo me questa cosa Enchi ce l'aveva presente poi torna anche un po' in Natsuokirino il fatto che la donna sia al tempo stesso possa essere al tempo stesso portatrice di vita e portatrice di morte cioè che dentro di lei convivano insieme queste due forze una forza che crea una forza che distrugge che si rifà tantissimo alla mitologia giapponese e che si rifà anche molto a tutto quello che era lo sciamanesimo che stiamo vedendo in Namamico cioè perché erano le donne che mettevano in comunicazione il mondo dei vivi e il mondo dei morti perché proprio in virtù di questo di questa loro facoltà di poter portare nel mondo dei vivi le anime ma forse anche di poterle trascinare via cioè l'essere una sorta di confine fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti quindi questa è un'altra cosa che si può dire un po' sul mito di Izanagi Izanami perché manca la femminilità della moglie che è in coma il marito la definisce un vegetale la protagonista invece è nel piano della sua femminilità e della loro relazione ok quindi torna un po' a questa quest'idea della della femminilità derivata da una malattia e di questi mariti che cercano la femminilità altrove allora il suicidio è solo diciamo un'ossessione della protagonista cioè sì non si sa se probabilmente non si è suicidato però lei è convinta in qualche modo che lui si sia suicidato e che sia colpa sua ok allora io non so se adesso stanno arrivando altre cose leggo l'ultimo commento di Daria se arriva a qualcos'altro poi leggiamo anche quello se no ci salutiamo Daria si ricollega appunto a sonno profondo e dice in un certo senso mi sembra che il punto di vista sia ribaltato nel senso che la protagonista di sonno profondo è femminile e per questo ottiene l'amore del suo amante e l'altra invece è quella non femminile quella la donna vegetale quindi come se le protagoniste si fossero invertite Graziella nell'antichità vita e morte sono sempre unite sì questo è vero però è interessante vedere come siano unite proprio in questo nella figura di una donna e questa cosa dell'essere un confine tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti torna in tantissime cose di Enchi anche il fatto che molte delle sue protagoniste siano anziane quindi in un certo senso o malate quindi in un certo senso vicine alla morte o che abbiano fatto un'esperienza di di malattia che le ha portate ad essere vicine alla morte secondo me è emblematico ci sarebbe molto da approfondire ma richiede tempo ma infatti non lo facciamo oggi oggi direi che vi ho tormentati abbastanza abbiamo parlato un bel po' e vi dico che la prossima settimana ci ritroviamo qui per commentare il secondo racconto di questo saggio che è i fiori dell'eterna giovinezza mi sembra una roba del genere e quindi cercheremo di approfondire un altro po' le grandi tematiche di Enchi e poi l'ultimo sabato del mese finiremo di commentare Namamiko e concluderemo il nostro primo libro spero che vi stiate divertendo che vi stia dando tanti spunti di riflessione che non lo so che vi stia anche un po' facendo ritornare in mente il Genji per tanti versi perché a me in realtà mi sta facendo balenare in testa un sacco di analogie di Fulganji grazie mille e niente grazie mille a tutti e a tutte e un bacio ciao ci vediamo sabato prossimo e buona Pasqua a chi la festeggia ciao 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 ciao